Ciao a tutti, allora c'è praticamente, tornane dalla guerra, entro uno scompartimento del treno, c'è un italiano, un russo e un americano. Allora il russo a un certo momento si alza in piedi, si impettisce tutto, fa noi russi durante la seconda guerra mondiale, avere avuto portaerei più lunghe di tutto il mondo, pensate, nostre portaerei erano talmente lunghe che noi per portare di spaccio da prua a popa noi usavamo biciclette. Se alza l'americano più impettito del russo, ma no mi fa sbudelare da ridere, noi americani avere portaerei più lunghe di tutto il mondo. Quali vostre, pensa, nostre portaerei talmente lunghe che noi per portare di spaccio da prua a popa noi usavamo motorcycle early Davidson. Se alza l'Italia, ma non mi fa sbudelare la linea, ma quale portaerei, queste le portaerei lunghe vostre, noi altri durante la guerra avevamo le portaerei più lunghe di tutto il mondo. Guardate, fa sì perché quant'erano le lunghe. Pensa, le portaerei nostre erano talmente lunghe che a popa c'era la guerra a prua non sapea un cazzo nessuno.